Che quello per l'approvazione del CETA, l'accordo di libero scambio tra UE e Canada, sarebbe stato un percorso accidentato era noto a tutti. Che addirittura non si riuscisse nemmeno ad avviare questo percorso era qualcosa di davvero inaspettato. Qualcosa che però è successo. Oggi il Consiglio UE si era riunito in una riunione straordinaria per sottoscrivere a livello di governi questo testo, ma la firma non c'è stata. Non c'è stata perché il Belgio non ha potuto porre la sua firma a questo testo in quanto la Vallonia, la regione francofona del paese, ha posto il suo veto perché chiede delle rassicurazioni, rassicurazioni sul rispetto dei diritti del lavoro, dell'ambiente e quant'altro. Rassicurazioni che fino ad ora, dice, non sono ancora arrivate. Il tempo però stringe. Il 27 di questo mese ci sarà il Summit fra UE e Canada e ci dovrà essere la sottoscrizione definitiva dell'accordo prima che questo poi passi al vaglio di tutti i Parlamenti degli Stati Uniti. Ma se non ci sarà la firma del Belgio, questo non potrà avvenire. La questione è stata quindi portata al Consiglio Europeo, il massimo consesso dell'Unione Europea. I leader dei 28, giovedì e venerdì, discuteranno di questo argomento e cercheranno di trovare una soluzione. La Commissione sta portando avanti delle trattative con il Belgio e con la Vallonia in uno specifico per cercare di superare questo problema. È in gioco, secondo Bruxelles, l'intera politica commerciale dell'UE. La commissaria Malmstrom ha detto che se non riusciamo a sottoscrivere un accordo con un paese come il Canada, in futuro non saremmo considerati un partner affidabile per nessun altro paese. Quindi si sta facendo molta pressione alla Vallonia, ma la Vallonia dovrà ricevere queste rassicurazioni. Dovrà dare il suo sì ed essere rassicurata in qualche modo. Perché se si dovesse procedere con una forzatura in qualche modo, non si invierà un buon segnale ai cittadini europei.